Ma che? Tesoro, perché hai i due telefoni? È un telefono vecchio, è un nuovo modello. Mi stai nascondendo qualcosa? Pensi davvero che io ti stia tradendo? Non c'è niente in quel telefono. Sbloccalo. Stai scherzando, vero? Non mi credi? Ti ho detto che quel telefono è vuoto, non lo sbloccherò. Va bene, lo porterò in uno di quei negozi per telefoni qui in città e me lo farò aprire. No, Katrin, aspetta! Aspetta! È da un po' che te lo volevo dire, ma non ho mai avuto il coraggio. Mi sto scrivendo con una ragazza. Però adesso ho smesso, ok? Perché ho capito che l'unica donna che amerò in tutta la mia vita sei tu, ok? È finita tra noi. Katrin, per favore! È finita, Robert! Grazie! 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 Grazie!